Tire costernati forse poco nell'apprendere dal sito istituzionale della provincia di Crotone che il presidente facente funzioni faccia pubblicare uno schema di avviso per il conferimento di un incarico di direttore generale che costerebbe circa 100.000 euro l'anno ai contribuenti e quanto affermano i segretari provinciali di CGL, CIS e GUIL, che in campagna elettorale si verifichi di assistere a comportamenti da parte di chi amministra la cosa pubblica di dubbia legalità ma di assoluta ed inequivocabile inopportunità in un certo qual modo ci si fa l'abitudine ma di fronte a cotanta spregiudicatezza non si può restare indifferenti e spettatori passivi. Una vergogna, chiunque abita e vive in questo comprensorio sa che l'ente provinciale dal 2014 è diventato un carrozzone che non eroga alcun servizio, che non riesce a riparare nemmeno una buca sulle tante strade di proprietà che conducono ai 26 paesi e frazioni del nostro territorio ed i sindaci lo hanno bene, compresi quelli che fanno parte dello stesso Consiglio provinciale. Parliamo di un ente che a malapena riesce a delogare gli stipendi ai 100 e passa dipendenti attualmente in organico. Ricordiamo, continuano i segretari provinciali di CGL, CIS e GUIL, che già l'ente si sobbarca l'onere di retribuire quattro dirigenti a un incarico fiduciario, nominati ricorrendo al famoso articolo 100 del Tuel, che tanto ha fatto discutere in primis gli iscriventi. Ora, con inqualificabile superficialità e senza rossire nemmeno un po', ci accingiamo a nominare un direttore generale per coordinare ed amministrare nulla, senza contare che circa dieci giorni fa, nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale, la parte pubblica riteneva inopportuno applicare l'istituto delle progressioni orizzontali ai dipendenti del comparto, contrattualmente prevista nell'ambito dei vari istituti che mirano a incentivare e motivare il personale dipendente. Questa improvvisa scelta di nuova nomina avviene mentre davanti al portone d'ingresso campeggiano le bandiere del sindacato confederale a simboleggiare uno stato di agitazione in corso mai revocato dopo un tentativo di conciliazione esperito in prefettura, stante lo stato cronico, di difficoltà finanziarie.